Noi siamo frammenti dell'uno che è l'intero universo, ognuno con la propria impronta il suo scopo, la sua funzione, dal macroscopico al macrocosmo al subatomico, passando per il nostro fisico e le nostre opere. Hanno tolto i papaveri dalla coltivazione e nessuno di noi ha notato che in natura c'è una sinergia, si scambiano tutte le essenze vegetali e anche animali che contribuiscono, scambiano qualcosa, quindi è la differenza che fa la ricchezza. A vedere questa corolla si vede a distanza, no? Con i quattro petali che sono di uno spessore infinitesimo, che si aprono dopo che si sono costruiti all'interno di questa teca. Proviamo ad immaginare qual è il lavoro che è stato fatto all'interno di questa teca, chiusa, per costruire questi petali così come sono e poi al momento opportuno aprirsi. Quale intelligenza artificiale sta qui? Che cosa è confrontabile a questo? Ci fanno sentire piccoli, ci intimorisco con l'intelligenza artificiale, ma noi abbiamo un universo che è immensamente grande. Qui c'è una catena strepitosa, da questa piantina che viene su, da quelle foglie che raccolgono i fotoni dal sole, con le radici che vanno sotto a scegliersi, atomo pedatomo, molecola per molecola quello che serve, e salire attraverso l'acqua per portarla laddove, in modo differenziato, né la destinazione, né la sua natura, a costruire questo, che poi altro non è che la continuazione della vita. Perché attirando gli insetti e andando ad imbollinarsi, anche qui per differenziazione sessuale, ci regalano la continuazione, il seme. Questa è la vita, il bene più prezioso, insostituibile che noi abbiamo. La vita. nella trasmissione di Fazio per due ore. Ha predicato che lui controllare il chimale. Se leggete questo libro, scoprirete perché. Perché lui già ha tutta una serie di brevetti. Ha tutta una serie di brevetti sui quali si costringeranno. Come quella di demolire magari le case e rifarle con il suo cemento brevettato, perché è capace di attirare l'eccellenza di anidride carbonica. Ragazzi, quando il problema si affronta a livello di convenienza per qualcuno e a spese del disequilibrio sul pianeta, noi andiamo verso la sconvarsa. È un magnifico teatro la Terra. E noi siamo tutti singolarmente, eccezionalmente ricchi. Siamo ricchi perché abbiamo la vita, abbiamo le nostre capacità, ognuno le sue, che sono preziose per tutti. A partire da me, ma preziosi anche per tutti gli altri. Pace. Pace. Ma con quella colla che tiene unito il mondo, che è l'attrazione tra simili, per cooperare. Perché anche quando formiamo una coppia, la formiamo per riprolungare l'attività della vita. Perché è un momento della staffetta umana che passa alla generazione successiva. Non è un atto di possesso, non è un atto di egoismo, è un atto d'amore. Noi, insieme, porteremo questo universo, questo pianeta verso la salvezza. Le donne portano la vita. Perché noi dobbiamo rispettare la vita. La calpestiamo, ci passiamo sopra con i prati, la vediamo in tutta la vegetazione, la vediamo intorno a noi. la gloria di chi ha organizzato questo mondo che noi ci stiamo godendo. Questo mondo che non aspetta altro che noi lo godiamo in armonia, con rispetto, a partire dal rispetto di noi, in equilibrio, senza più sopraffazioni, senza più la voglia di primeleggiare sugli altri. e, per quello che viene dall'insegnamento di Majorana e di Rolando Pelizza, quello che si fa sulla base di quello che si è e si è capito, è per metterlo a disposizione dell'umanità. Di essere pronti a dare, a condividere, e quindi a sapere quello che noi abbiamo dentro, per sentirci ricchi, perché noi possiamo offrire. e possiamo offrire quello che abbiamo e non, invece, cadere nella trappola in cui, purtroppo, siamo stati messi, di farci vedere quello che ci manca e di sentirci sempre bisognosi e debitori. Riappropriamoci delle nostre ricchezze, ognuno ce le ha, per svolgere quel compito che si troverà a fare con soddisfazione. Grazie, ragazzi. Grazie a tutti.